Si leva sicuramente una colonna portante in questo momento della squadra, una partita dietro l'altra, un sacco di punti se in grandissima forma, c'è molto feeling ormai con il resto della squadra e con Noemi. Sì, con Noemi ormai abbiamo giocato già insieme, io mi sento, mi trovo molto bene con lei, penso che dal numero di palloni che mi dà anche lei. Comunque è una partita importantissima perché iniziamo la Coppa CEF, la settimana prossima tra un po' arriva anche la Coppa Italia e un po' per l'autostima anche della squadra. C'è il famoso ritmo che si cercava, finalmente è arrivato. È arrivato, è arrivato, adesso rientra anche l'Aleo tra un po' speriamo e ancora meglio. Senti Elisa, questa era una partita decisamente importante, avete avuto un rendimento costante solo nel terzo set, sembrava tutto già chiuso e poi si è spenta un po' la luce, un attimo. Sì, io prendo la colpa, sinceramente è stato un pallone che l'arbitro ha fischiato un po' comunque, poi delle palle fuori che ho tirato che non ci stavano comunque, era chiuso, uno o due errori che ho fatto ci costava il set. Ti diverti, si vede in campo che ti diverti, sei molto serena, molto tranquilla. Sì, sì, penso che tutta la squadra ci stiamo divertendo perché stiamo molto bene insieme in campo, penso che così deve essere.